Ciao ragazzi, vi ricordate di me? Sono Mila Azuchi, cugina della campionessa Mimì. Ciao Mila, sono contentissimo che la nostra Story Am abbia avviato tanti ragazzi al mondo della pallavola. Sono felicissimo di questa. Mila è il suo nome e il talento va per tre. Sono qui per festeggiare con voi i miei trent'anni di pallavolo. Era il 25 febbraio del 1986, quando sono entrata per la prima volta in un palazzetto per una sfida personale con la campionessa Nami Ayase. Mila e Shiro, i tuoi cuori della pallavola. Shiro e Mila, l'amore prima vista è Mila. So che Valentina Diouf, Cristina Chirichella, Nadia Bala, Francesca Piccinini e molte altre azzurre della pallavolo hanno iniziato a giocare grazie alle mie imprese sportive. E per questo vi faccio un grande in bocca al lupo per il prossimo torneo di qualificazione olimpica. Da capitano della squadra maschile non posso che augurare a tutti gli atleti azzurri un grosso in bocca al lupo per le Olimpiadi di Rio 2016. In bocca al lupo, forza! Attacca!